Allora, benvenuti sul canale YouTube La Figa che Ci Piace Il Cazzo che Ci Piace No, perché me lo chiedono anche durante le live Il Cazzo dove insegnare Figa che è un gioco da ragazzi Allora, avvicinati Dunque, parliamo oggi di somma di cazzi Argomento molto importante, quindi facciamo una specie di riepilogo Allora, hai due cazzi dello stesso tipo Per esempio, due cazzi di forza Due cazzi, velocità Due cazzi, campo elettrico Li puoi combinare fra loro La combinazione di questi due vettori viene chiamata tecnicamente scompatta Cioè stai sommando i due cazzi Com'è possibile sommare i due cazzi? Utilizzando due diversi metodi Puoi sommarli o con il metodo del cazzo nero Oppure con il metodo del cazzo grigio Oggi vedremo uno e l'altro, va bene? E poi dopodiché alla fine della lezione vi faccio una bella scompatta Per farvi capire che significa scompare due cazzi Perché tradotto significa ottenere da due cazzi Un solo cazzo Quindi quale devi usare? Tutti e due Perché i professori quando scompano chiedono entrambi i cazzi Quindi se vuoi prendere due a questa interrogazione scompare Ora prima di lasciarvi Vi voglio scompare con forza Stiamo dicendo Ci diamo appuntamento alla prossima puntata Ciao aglion